Buongiorno a tutti. Oggi andremo a svolgere insieme un esercizio di fisica, in particolare sulla forza elastica e sulla forza peso. Trovate il testo dell'esercizio in descrizione. La situazione è quella di una molla appesa al soffitto, alla quale viene agganciato un corpo di massa m. A causa del peso del corpo la molla si dilata di 10 cm e dobbiamo determinare la massa del corpo appeso alla molla. Sappiamo che la costante elastica della molla è 100 N fratto metro. Allora, innanzitutto, prima di cominciare, notiamo subito che le unità di misura per l'allungamento della molla non vanno bene poiché sono in centimetri. Noi dobbiamo lavorare nel sistema internazionale delle unità di misura e quindi avere le grandezze espresse in metri. Quindi dobbiamo fare l'equivalenza da 10 cm a metri. Quindi 10 cm, ci sono due ordini di grandezza da centimetro a metro. Quindi 10 cm sono 0,1 m. Benissimo, a questo punto notiamo che all'equilibrio, quindi quando la molla non si estende più, la forza peso è perfettamente uguale alla forza elastica. Quindi io posso porre l'uguaglianza peso uguale forza elastica. Questo perché all'equilibrio il corpo è fermo, quindi la somma delle forze che agiscono su di esso deve essere nulla. Ma questo è ovvio perché se il peso fosse maggiore della forza elastica, questo vincerebbe sulla forza elastica e quindi tenderebbe a far scendere ancora di più il corpo. Viceversa, se la forza elastica è maggiore del peso, la molla tira il corpo verso l'alto e l'allungamento della molla diminuisce. Quindi la condizione di equilibrio, quando il corpo è fermo ed è appeso alla molla, si ottiene quando le due forze si bilanciano perfettamente, quindi il peso è uguale alla forza elastica. A questo punto, questa è la condizione di equilibrio, io posso sostituire al peso e alla forza elastica la loro definizione. Noi sappiamo che il peso è definito come m per g, cioè la massa per l'accelerazione di gravità, e la forza elastica è definita come la costante elastica per l'allungamento o la dilatazione della molla che chiamo con la variabile x, con il simbolo x. A questo punto vado a sostituire, quindi al posto del peso sostituisco m g, mentre al posto della forza elastica sostituisco kx. Io voglio ricavare m, la massa del corpo, quindi devo eliminare g da questa relazione. Per eliminare g posso dividere tutto diviso g, quindi ricavo la formula inversa sfruttando il secondo principio di equivalenza delle equazioni di primo grado, quindi posso semplificare a primo membro g ottenendo la formula finale m uguale kx fratto g. E a questo punto vado a sostituire i valori numerici, quindi k è 100 newton fratto metro, evito di scrivere le unità di misura nella formula, ma le scriverò certamente nel risultato, quindi k è 100 newton fratto metro, che moltiplica l'allungamento della molla, che è 0,1 metro, diviso g, che è 9,8 metri al secondo. Procedendo al calcolo, 100 per 0,1 diviso 9,8, otteniamo 1,02 kg, quindi arrotondato 1 kg. Ecco la soluzione al nostro esercizio. Spero che questo breve esempio possa aiutarvi a svolgere i vostri esercizi. Mille grazie dell'attenzione.